E siamo qua, devo ritornare con la cuna di Natale qua della residenza, della casa del gruppo di Filò qua di Farropiglia. De fatto queste persone qua, cada volta che inseccano e fanno cose belle, senza insegnare la gente, perché tutti qua sono artisti della natura. E che apparesevano in questo mondo, uno di artisti con il Badil, con l'altro con la Sapa, con l'altro con un cucciardo di pedrero, con l'altro con un martello, con una sega, le donne una con la paia di formento per fare la dressa, con l'altro per fare il capello, perché voi altri sono Dio guardare lì anche che la gente qua e tenere i capelli, rientro a casa, non è per motivo del sole, ma è per tenere le idee della testa, perché se cava il capello le idee vanno tutte fuori. Ma guardate qual è qui che rappresenta la Maria, e questo l'è il Giuseppe. Ma noi altri dobbiamo ascoltare un altro canto che con il mensaggio del Natale. Escoltevo. Notte felice 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 Notte felice